partiamo da vedo manera black widow ho visto questo film black widow con scarlett johansson che parla di non tanto non è vero che parla tanto delle origini della vedo maniera si ne scopriamo moltissimi aspetti del del passato degli inizi dei momenti che il personaggio ha vissuto prima di far parte dei vendicatori e la storia in realtà racconta anche un po una parte di storia che non è indietro troppo indietro nel tempo ma si concatena bene a ad altri film del marvel civil war ed altri alla fine poi si ricollega anche ovviamente alla all'esito terribile che il personaggio ha avuto in avengers endgame due commenti su la vedova nera film film a livello di regia creatività sceneggiatura secondo me molto banale tutto molto prevedibile niente di spettacolare seppur c'è un'azione frenetica spettacolare è tutto già visto è palesemente derivativo dalla maestria e dall'arte del maestro michael bay tutto movimento tutta 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 una regia concitata che può piacere non piacere a me piace quando lo fa michael bay perché inventa dietro quello stile di regia dove tutto si muove in primo secondo terzo quarto quinto piano e quindi michael bay ci mette una creatività che poi può piacere non piacere ci mette il suo gusto il suo stile però è sempre originale questa vedova nera non è assolutamente originale diciamo che il film vale veramente poco se non per va visto se stai seguendo tutto il marvel cinematic universe perché ci sono degli elementi di raccordo per il futuro e intanto ci ha raggiunto marco 1996 chissà sicuramente con le notifiche di twitch perché non avvisato nessuno che avrei fatto avrei fatto questa live il film quindi secondo me molto 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 mediocre e serve soltanto per per poter fare dei collegamenti per la serie tv e per introdurre tutta un'altra serie di personaggi in questo caso il film è stato utilizzato palesemente da sommo buta che mi che mi ingaggerà per per la sua partita del cuore a napoli io sono sommo io sono fortissimo al calcetto i miei amici dicono che quando dribblo faccio un effetto ottico che loro chiamano passo doppler non è il passo doppler non è l'effetto doppler è il passo doppler praticamente io vado dritto e la gente si scansa questa è chi lo vede da fuori vede questo effetto io che avanzo dritto la gente si scansa in realtà la gente si scansa perché io sposto molto il corpo sembra quasi che cadda che io cada ma in realtà che succede che praticamente giuro giuro che succede che siccome sono grasso la gente non pensa che se mi abbocco mi mi annucco non so come si dice pendo da una parte io mi possa rimettere col baricentro centrale avanzare quindi le persone si spostano esattamente dove io fingo di cadere una cosa incredibile effetto passo doppler quindi non vedo l'ora di giocare andatevi a vedere doveva vedere un po gli ultimi video sommo buta che ho seguito con grande interesse soprattutto la l'intervista esclusiva a toriyama e da come ho capito dovrebbero uscire altre interviste sommo non sto aspettando quella di oda perché mi sono sempre chiesto come fa un morto a parlare come fanno gli altri che non sono il profeta percepire la sua voce probabilmente con interviste quindi veramente invito tutti andarvelo a vedere perché il video era una bomba atomica detto questo però voglio dire l'ultima mia su black widow su vedova nera film che è veramente banale fatto male derivativo copiato senza idee senza creatività mi è dispiaciuto pure che il mood della spia della vedova nera non ci fosse il film serve introdurre solo questo personaggio che la sorella e sembra senza carisma però credo e approfitterò quando uscirà che lo potremo vedere tutti credo che sia resa banale patetica come tutta la famiglia della vedova nera che nel film si vede da un doppiaggio super story tipato russo sono proprio un vladimir korschenko vodka buona tipo questo e alla fine il film ecco introduce un po di personaggi introduce potenzialmente un nuovo esercito per chi vedrà il film lo scoprirà e si ricollega a un personaggio alla fine che compare in una delle serie tv marvel che abbiamo visto non vi dico se vanda vision falcon di will the soldier e loki sto seguendo loki mi piace il mood mi piace anche l'idea certe cose sono un po tirate per i capelli falcon di will the winter soldier mi è piaciuto tantissimo mi è piaciuto tantissimo vanda vision sembra che è la direzione sia quella di andare verso la creazione di nuovi gruppi potrebbero essere i thunderbolt thunderbolt o dark avengers e secondo me si sta andando anche verso direzione di fare gli di angli avengers vedremo comunque ecco il progetto marvel fase 4 tanta roba dentro ancora tutto molto poco chiaro questo è quello che volevo dire è quello che volevo dire